Sì, grazie, grazie dell'invito. Mi fa molto piacere essere di nuovo qui. Buonasera a tutti e a tutte. Sì, appunto, storie prima della storia. Il sottotitolo del libro che è stato appena citato è un po' il nostro tema di oggi, cioè cercare di un po' rimettere insieme e gli elementi che abbiamo a disposizione, e sono tanti, per raccontare la nostra storia nel tempo profondo, nel tempo profondo delle ere geologiche, potremmo dire, o perlomeno degli ultimi tempi della storia della vita sulla Terra, e in questo modo cercare di comprendere meglio anche chi siamo. La sfida è quella di riuscire attraverso il passato a comprendere meglio la nostra natura e anche, direi, il nostro posto nella natura, come diceva Thomas Henry Huxley in un famoso libro di metà ottocento, il famoso Mastino di Darwin. Credo, penso di condividere con molti l'idea che capire meglio chi siamo, capire meglio che cos'è questa creatura particolare, particolarissima, che chiamiamo Homo sapiens, o meglio, che fummo chiamati Homo sapiens da Carlo Linneo alla metà del Settecento. Non so quanto questo sapiens sia davvero meritato, questo poi cercheremo di capirlo. Bene, se questa creatura ha davvero le risorse per affrontare le grandi sfide che ha di fronte, sfide che derivano anche dalla propria stessa presenza così ingombrante, così marcata su questo pianeta, tanto da mettere a rischio la sopravvivenza di molte creature, c'è un calo della biodiversità che leggiamo anche proprio così, sentiamo nei telegiornali, c'è grandi problemi di inquinamento, dalle scorie radioattive alle plastiche che invadono il pianeta, c'è un importante cambiamento climatico, di cambiamenti climatici noi valentologi ne sappiamo qualcosa, insomma ce ne sono stati tanti nel passato, nel tempo profondo della preistoria, ma questo è un cambiamento climatico rapidissimo, indotto proprio dalla nostra stessa presenza, anche perché siamo tanti, forse troppi, come penso tutti sapete un paio di mesi fa, se non ricordo male, o forse anche meno, abbiamo toccato la vetta degli 8 miliardi di esseri umani su questo pianeta, ed è una vetta per modo di dire, perché parte di un'ascesa ulteriore che ci porterà a cifre ancora più impressionanti già nei prossimi decenni. Quindi insomma, a parte queste note, certamente noi abbiamo questa grande testa rotondeggiante che contiene un cervello di quasi un litro e mezzo di volume, abbiamo le risorse per poter affrontare tutto questo. Abbiamo le risorse scientifiche, tecnologiche, ma quello che forse è più importante andare a ritrovare e a condividere e individuare le risorse culturali, quindi la condivisione anche delle conoscenze sulla nostra natura, su chi siamo, su tutto quello che dicevamo prima, perché questo io penso ci possa aiutare molto ad affrontare meglio queste sfide. Quindi cominciamo. Cominciamo da questa frase che a me colpì molto quando lui morì, Stephen Hawking, chi è che non lo conosce, il famoso astrofisico, morto 4 o 5 anni fa, e mi trovavo in una sala d'aspetto, un giornale trovato lì per caso, a Brando lo trovai appunto una specie di necrologio di questo grande scienziato appena deceduto e trovai questa frase, mi appuntai subito perché mi piacque molto. Dice che siamo solo una varietà evoluta di scimmie e già in questa prima riga o giù di lì ci sono alcuni elementi interessanti, per esempio il fatto che siamo scimmie, ma anche il fatto al tempo stesso che siamo una varietà evoluta di scimmie, bisogna capire anche un po' che cosa significa questo evoluta. Su un pianeta minore di una stella media qui entra l'astrofisico, ma possiamo capire l'universo, io direi possiamo capire la vita, possiamo capire tanti aspetti della realtà che nessun'altra forma di vita ha mai neanche tentato di capire o di affrontare. E questo quindi ci rende qualcosa di davvero speciale. Ora in questa breve frase si ritrova un po' tutta la tematica che abbiamo proprio poco fa cercato di intravedere, cioè il fatto che appunto siamo una creatura speciale che ha delle grandi risorse ma che ha anche dei limiti, delle caratteristiche che sono connaturate con la nostra natura di esseri umani e di esseri viventi e di scimmie in particolare. Con le scimmie perché qualcuno dice l'uomo deriva dalla scimmia, no, l'uomo è una scimmia. C'è una relazione forte tra noi e tutti gli altri primati, evidente a chiunque affronti da zoologo la comparazione tra i mammiferi per esempio, ed è facile vedere subito che come capì Linneo e tanti altri suoi contemporanei già a metà del Settecento, noi siamo appunto, abbiamo tutte le caratteristiche che hanno i lemuri, così come i gibboni, così come i macachi, i cebi, i babuini, gli scimpanzei, i gorilla e le scimmie non sono delle realtà del passato, noi non deriviamo dalle scimmie di oggi. Non tutti sanno forse che al mondo oggi ci sono 400 specie diverse di scimmie, noi siamo una di quelle 400 specie e deriviamo tutti da degli antenati comuni che via via risalgono fino addirittura all'epoca in cui c'erano ancora i dinosauri, in cui esistevano dei primi primati, cioè delle prime creature che un Linneo di allora avrebbe classificato tra i primati. parliamo di 80 milioni di anni fa e poi via via, poi c'è stato il grande botto dell'asteroide, la scomparsa dei dinosauri, l'apertura di formidabili opportunità ecologiche e adattative per uccelli, che sono i veri discendenti dei dinosauri, e i mammiferi in tutte le loro varietà. tra le varietà di mammiferi i primati si sono via via differenziati, poi alcuni si sono estinti nel frattempo, poi ci sono state altre radiazioni adattative, fino ad arrivare a oggi che contiamo appunto 400 specie di primati viventi, molte delle quali è a rischio a causa nostra. Noi siamo una di queste, siamo una di queste, abbiamo una storia che ci lega a tutto questo percorso che vi ho adesso veramente tratteggiato, e tutto questo noi lo possiamo ricostruire grazie a una serie di elementi che ho cercato di riassumere, o meglio che sono riassunti in queste immagini che ho trovato su internet. Lo possiamo ricostruire attraverso i fossili, dice la famosissima Lucy, chi è che non la conosce, questo scheletrino di un australopiteco scoperto nel 1974, insomma tanti anni fa, in Etiopia, che però ha rappresentato una svolta nella storia delle ricerche sul nostro passato remoto, oppure attraverso i manufatti, come quei due manufatti che trovate lì appoggiati su questo foglio, oppure la genetica, i dati molecolari, come si dice oggi, quindi dice un modellino che evoca la struttura del DNA, e quindi qualcosa che ci accomuna addirittura a tutte le altre forme di vita, compresi i batteri. E poi anche c'è una componente, in questa immagine a me è subito piaciuta, c'è una scimmia o un antenato rappresentato lì nel verde, ma poi c'è anche appunto un foglio di giornale, perché effettivamente dove c'è scritto i ricercatori trovano un nuovo antenato dell'uomo, dell'umanità. Sì, perché effettivamente questo tema, oltre a essere interessante, avere diciamo delle capacità anche appunto di darci una visione culturale, filosofica quasi per certi versi, e certamente anche politica nuova, intanto per cominciare tocca delle corde sensibili nelle nostre emozioni, cioè comunque stiamo cercando di ricostruire la nostra storia, il nostro passato, e questo è per noi estremamente interessante. È un po' come il mito delle origini, che tutti i popoli hanno sempre cercato di immaginare, di cantarsi, di raccontarsi, di scrivere, e la differenza sta nel fatto che mentre i miti delle origini dei tanti popoli erano basati sulla fantasia, sull'immaginazione, su delle credenze, questo racconto delle origini che ci fa la paleoantropologia è basato su dati scientifici, ed è qualcosa di solido, non di incontrovertibile, la scienza non produce verità, produce però delle approssimazioni alla realtà su cui possiamo contare parecchio, anche se la forza e la debolezza della scienza è proprio questa di essere costantemente in revisione, stiamo sempre ripensando e verificando le acquisizioni che raggiungiamo. Però appunto più che una debolezza credo che sia proprio la forza del metodo scientifico. Bene, allora, vediamo di fare ordine in tutto quello che ho cercato nel momento di lanciarvi come una grande ondata di informazioni preliminari, e cominciamo da un punto, anche se forse da questa immagine non sembra un punto, ma adesso vi spiego in che senso punto, un punto nel tempo e nello spazio che è di snodo tra un prima e un dopo. Qual è questo punto nel tempo e nello spazio? È un punto, siamo in Africa, circa 200.000 anni fa. Allora, Africa è grande, ma insomma qua più probabilmente siamo in Africa orientale, in quello che tutti chiamiamo il corno d'Africa, qualcosa tra l'Etiopia, il Kenya, la Tanzania. E siamo 200.000 anni fa significa un tempo gigantesco da un certo punto di vista, tanto tempo fa, sono duemila secoli fa. Qui è scritto K.A., che sta per migliaia di anni dal presente, però al tempo stesso è un tempo molto breve, nella scala dei tempi geologici della Terra, della vita sulla Terra. Prima parlavamo di origini dei primati, quando il ceppo dei primati, la storia dei primati si stacca dal ceppo originario dei mammiferi. Abbiamo detto 80 milioni di anni fa, quindi 200.000 cos'è? è pochissimo rispetto a 80 milioni di anni. Al tempo stesso questi 200.000 sono tantissimo rispetto alla vista di ciascuno di noi, ma anche ai tempi storici, quelli che ci arrivano attraverso l'insegnamento scolastico, quelli che stanno nei libri di scuola, dove si parla soprattutto delle grandi civiltà del passato, epoche remote in cui vivevano i sumeri, gli assirobebinonesi, gli egiziani. E invece è quasi la schiuma del mare, sono gli ultimi millenni di una storia che almeno va indietro 200.000 anni, ma poi va indietro milioni di anni o addirittura decine di milioni di anni, oppure addirittura centinaia di milioni di anni se consideriamo le origini della vita registrabili attraverso i fossili. Parliamo addirittura di miliardi di anni fa se parliamo del famoso brodo primordiale, dove le molecole hanno incominciato a mettersi insieme e a formare qualcosa che poi ha dato origine alla vita. Tutto questo noi lo conosciamo abbastanza bene e conosciamo anche questo momento particolare, questo punto, Africa orientale 200.000 anni fa, che è tanto e poco al tempo stesso in termini di tempo. E poi che cosa succede 200.000 anni fa in Africa orientale? Compare Homo sapiens, come c'è scritto lassù. Compare la nostra specie e nel momento in cui compare poi rapidamente tende a diffondersi l'ennesimo fenomeno out of Africa, si dice comunemente nei libri, no? Cioè l'ennesima diffusione fuori dall'Africa, dall'Africa verso l'Eurasia, ma questa volta gli umani arriveranno anche in Australia o addirittura nelle Americhe, cosa che non era mai successa prima. Quindi una rapida diffusione geografica planetaria, a partire da quella piccola popolazione africana di 200.000 anni fa, dove succede qualcosa di formidabile. Si accumulano, io me l'immagino un po' così, no? Si accumulano come tutte delle eredità del passato lì, in quel punto lì. In quella piccola popolazione ci sono i retaggi di una storia che è quella che abbiamo cercato di tracciare, data dal brodo primordiale in poi, no? Tutte le caratteristiche biologiche degli esseri viventi, ma poi le caratteristiche particolari dei vertebrati che hanno una loro struttura comune, no? Noi siamo come dei pesci, dei rettili, degli anfibi per certi aspetti. Ma poi tutta la storia dei mammiferi all'interno dei vertebrati e poi tutta la storia dei primati all'interno dei mammiferi e poi tutta la storia nostra, cioè la storia di quelle creature bipedi che 5-6 milioni di anni fa iniziarono a muoversi proprio in Africa, tra l'altro, su questo pianeta. E poi la storia del genere Omo, le precedenti diffusioni geografiche di altre specie del genere Omo, che qualcuno sicuramente conosce come Omo habilis, Omo ergaster, Omo erectus, Omo hidelbergensis, una serie di Omo in latino. Bene, questa è l'ennesima di queste storie e qui compare, è comparsa però una forma che ereditando tutto questo, le caratteristiche del vertebrato, del mammifero, del primate, dell'ominide bipede, ne acquisite ancora di nuove e forse la principale è proprio questa grande testa rotonda. Io porto i capelli corti anche lui per questo, per mostrare diciamo questa caratteristica fondamentale. Perché il nostro cervello che è contenuto dentro questa grande testa rotonda è qualcosa di anormale. Mi viene in mente il film Frankenstein Junior, che è stato appena adesso restaurato, no? Abinormal, chi se lo ricorda? Perché effettivamente il nostro cervello è gigantesco rispetto a quello che dovrebbe essere il cervello di un primate della nostra taglia. Cioè se noi fossimo davvero e fino in fondo scimmie, avremmo un cervello grande così, mezzo litro circa. Mentre il nostro cervello è quasi tre volte tanto. Anzi, rispetto alla realtà, che adesso facendo i conti meglio, scimmie antropomorfe della nostra taglia dovrebbe avere un cervello di 400 millilitri, quindi un po' meno di mezzo litro, e il nostro cervello arriva quasi a un litro e mezzo. Se vi fate due conti siamo quasi quattro volte sopra. E ci deve essere un motivo per cui questo cervello si è così accresciuto. E sappiamo che si è accresciuto nel corso dell'evoluzione del genere Homo, non di Homo sapiens. E Homo sapiens è l'ultimo arrivato di questa storia di encefalizzazione, ma in quella piccola popolazione di 200 mila anni fa in Africa si è aggiunta una novità, che è la forma rotonda, che sembrerà così di interesse solo per gli specialisti, ma in realtà non è così. Il fatto che il nostro cranio si sia disposto ad accogliere un cervello grande assumendo una forma rotondeggiante vuol dire che è cambiato qualcosa di fondamentale nei tempi di accrescimento e sviluppo delle ossa del cranio. Ed è cambiato qualcosa di importante dal punto di vista dell'accrescimento e sviluppo intorno all'epoca della nascita. Quando noi nasciamo il nostro cervello è relativamente più piccolo e ha un po' la forma di tutti gli antenati, cioè un po' allungato anteroposteriormente. È proprio nel primo anno di vita che il nostro cervello assume questa forma più rotonda. Si ingrandisce e si arrotonda, diciamo, si globularizza, questo è il termine che usiamo noi. E questo perché? Perché nella nostra specie, in quella popolazione di 200.000 anni fa in Africa, è avvenuto un cambiamento genetico fondamentale che non era mai avvenuto prima, per cui sono cambiate alcune modalità e tempi dell'accrescimento e dello sviluppo, cioè di quella che Heckel aveva chiamato l'ontogenesi, cioè lo sviluppo individuale, soprattutto in questa fase critica dei primi mesi di vita postuterina. tenete conto che 200.000 anni fa, sopra, al nord del Mediterraneo, in Europa, da queste parti, c'erano i Neandertal. E i Neandertal, 200.000 anni fa e dopo, avevano un cervello grande come il nostro. C'erano addirittura in media un filo sopra. Un cervello enorme, quello Neandertal, ma accolto in un cranio allungato come una palla da rugby. E questo fa una differenza importante, quindi come capite, non solo di tipo esteriore, non è solo morfologia tanto per parlare della forma, ma è una forma che ha degli riscontri importanti in termini di accrescimento e sviluppo, di durata quindi anche dell'infanzia, perché poi tutto si riverbera negli anni successivi, e quindi della vita anche, ma anche delle influenze importanti dal punto di vista neurologico. Cognitivo, dunque. Perché, come ha capito molto bene un mio ex allievo che è oggi uno dei più importanti paleoneurologi in circolazione, nel momento in cui questo cranio si arrotonda, è come se si aprissero a ventaglio delle aree importanti dal punto di vista associativo. Sono soprattutto le aree del lobo parietale. non è tanto la fronte. È vero che nel caso nostro, rispetto ai Neandertal, per esempio, che sono il nostro fungible, diciamo così, il nostro specchio nel quale guardarci, i Neandertal per esempio avevano una fronte sfuggente. E quindi per molto tempo si è pensato che la cosa importante nel caso nostro sia stata l'espansione frontale. Non è tanto così, perché l'espansione frontale c'è stata, ma è semplicemente lì che si è riversata il lobo frontale del cervello. Quello che si è aperto davvero, nuovo, è la parte, diciamo, parietale, che si è aperta come a ventaglio, creando delle nuove strutture associative, che è facile immaginare, anche se le ricerche vanno avanti, che abbiano avuto un effetto straordinario sulle nostre capacità di immaginazione e di associazione. Comprese, quello che ci avete davanti agli occhi da un po'. Manifestazioni di pensiero simbolico che non si erano mai viste prima. Per quanto si dica che i Neandertal qualcosa facevano, hanno lasciato delle tracce di pensiero simbolico, ed è vero, ma erano delle tracce, dei barlumi di pensiero simbolico. Con Homo Sapiens, e soprattutto dopo un po' di tempo che Homo Sapiens è in giro, si incominciano a vedere, non delle tracce, ma delle manifestazioni strepitose di pensiero simbolico. Quest'arte è qua, ma chi l'ha fatta? Qualcuno che è stato per anni educato alla bottega del Verrocchio? No. È qualcuno che lo fa spontaneamente e che ha dentro di sé dei pensieri, delle idee e delle capacità di raffigurare graficamente queste idee, che è qualcosa proprio veramente di sapiens, nel senso è proprio qualcosa di nostro, cioè siamo proprio noi. E a fare queste prime opere di arte rupestre, come anche queste veneri paleolitiche, questa è la famosa Venere di Willendorf, una delle tante, questa si può vedere a Vienna nel museo, c'è una stanza dove c'è solo lei, in una teca, è grande così, è un oggettino di queste dimensioni, ma formidabile per le sue capacità evocative del corpo femminile, anche con aspetti di abbigliamento, tra virgolette, questa cuffietta che c'è in testa, ma soprattutto per l'evocazione di una serie di simboli di fertilità e di benessere che porta con sé in questa maniera quasi esasperata. Bene, allora questa creatura, comparsa 200.000 anni fa in Africa, si diffonde sul pianeta, porta con sé le proprie caratteristiche biologiche, quelle ereditate da una lunga storia, ma anche quelle nuove, cioè la testa rotonda, e porta con sé gli effetti di questa testa rotonda, cioè per esempio appunto le capacità di pensare in questo modo, che anche forse c'è una componente di autoconsapevolezza, perché poi vengono rappresentati anche, gli umani rappresentano se stessi a un certo punto, e questo forse ha fatto la differenza in una sorta di competizione che si aprì all'epoca tra noi, cioè loro noi, cioè i primi sapiens, e altre forme umane che erano pure presenti in varie parti dello scenario geografico, in Africa, come in Europa, come in Asia continentale, come in Indonesia, c'erano Omonaledi, c'erano Omoneandertalensis, c'erano i Denisova, c'erano gli ultimi Homo erectus, c'era un sacco di gente in giro, c'era un sacco di varie specie del genere Homo che erano contemporaneamente presenti centomila anni fa, a metà di questa storia, se noi mettessimo una specie di, facessimo una foto, con un drone girassimo sul mappamondo centomila anni fa, incontreremmo tutte queste specie umane diverse, specie umane diverse, non popolazioni, non razze, specie, e alcune tutte hanno un cranio più o meno grande ma allungato anteroposteriormente, una sola c'è il cranio rotondo e l'unica sola che è sopravvissuta è questa. Quindi dentro questo cranio rotondo e grande ci deve essere qualche trucco che ci ha reso possibile sopravvivere anche ad avversità notevoli e vincere nei millenni che passano, decine di millenni che passano, una sorta di competizione ecologica con altre forme altrettanto umane anche se diverse. I Neandertal, per esempio, intorno a 40.000 anni fa si estinguono, i Denisova pure, Homo erectus forse un po' prima, Homo onaledi non sappiamo, insomma tutte le Homo floresiensis, forse quello che regge di più, perché si trova in un'isoletta, che cerco di trovare qua sotto, piccola piccola, dove questa creatura umana, umana con qualche virgoletta, insomma una forma umana diciamo primordiale, si era andata a infilare, per probabilmente caso, cioè portata da delle zattere naturali, forse un milione di anni fa, forse addirittura due milioni di anni fa, ai tempi della primissima diffusione del genere Homo fuori dall'Africa. E poi lì era rimasta, non sapendo tornare indietro, per questo pensiamo che avesse raggiunto l'isola di Flores con questi mezzi involontari, diciamo così, come un vecchio ministro che aveva la casa a sua insaputa vicino al Colosseo. Ebbene, questo Homo floresiensis è l'ultimo a estinguersi, perché uno degli ultimi posti dove i sapiens arrivano è proprio quell'isoletta di Flores. Nel frattempo questi ometti di Flores erano diventati piccoli piccoli, proprio per un fenomeno che a volte avviene nelle isole, che si chiama nanismo insulare. Forse sapete degli elefanti siciliani o di altre isole del Mediterraneo, che arrivati in Sicilia, magari anche a nuoto attraversando piccoli bracci di mare, poi l'isola si separa di più dalle altre masse continentali, e quindi questi rimangono imprigionati in un'area relativamente piccola, che è l'isola appunto, dove magari non ci sono i predatori, per cui non è tanto necessario essere grandi come un elefante africano, e al tempo stesso non ci sono tante risorse, per cui è meglio essere piccoli, così si mangia in più. E quindi c'è questo fenomeno tipico dell'insorgenza, di questo nanismo insulare, di cui sarebbero stati anche, in qualche modo, non so come chiamarli, protagonisti, i nostri antenati, parenti estinti, forse è meglio chiamarli, Homo floresiensis. Bene, insomma, tutte queste altre specie umane, dai Neandertal agli Hobbit dell'isola di Floresse, si estinguono, all'arrivo dei Sapiens, ma non è Sapiens che li estingue, non c'è stato, non abbiamo nessuna traccia di genocidi, o di guerre, o di massacri, anche perché queste convivenze sono durate decine di millenni a volte, quindi noi abbiamo massacrato i nostri simili in America nel giro di pochi secoli, noi europei rispetto agli indios o agli indiani d'America. Quindi se di genocidio si parla è una cosa veloce. Qua invece no, ci sono state coesistenze di piccoli gruppi, tra l'altro densità di popolazione bassissime, per cui questa coesistenza è durata molto a lungo, ma prima o poi la specie più capace di una sorta di plasticità adattativa, cioè la nostra, prevale sulla specie invece più rigida nei suoi risposti all'ambiente. Dunque, vedo il tempo, siamo alla prima diapositiva quasi. Non abbiamo 200 mila anni. Esatto. Vabbè, ma comunque non ha importanza dove ci fermiamo. Almeno mezz'ora ancora. E quindi questa specie appunto, questa immagine, io ve l'ho voluta far vedere e commentare a lungo, per il semplice fatto che la considera una specie di punto zero, o di punto di snodo, forse diciamola così, di punto di snodo, tra un prima e un dopo. C'è un grande prima di, l'abbiamo detto, milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di anni, prima, in questo momento, e c'è un dopo, 200 mila anni dopo, fino a oggi, che è la storia della diffusione geografica di Homo sapiens, dei suoi adattamenti ai vari contesti ambientali, l'estinzione nel frattempo di altre specie umane, insomma ci sono mille storie prima e dopo. Vediamo qualcosa prima, veloce. Dunque, qua, qua vi ho messo, diciamo, c'è qualcosa che accomuna queste due signore, la nostra Bellucci è una femmina di scimpanze, e questo qualcosa è il DNA soprattutto, poi c'è varie altre cose in realtà, ma innanzitutto il DNA, molti di voi sicuramente sanno che noi condividiamo con gli scimpanze il 98,5% del genoma, cioè tra me e uno scimpanze, tra la Bellucci e quell'altra femmina di primate, c'è un 1,5% dell'intero genoma a essere diverso, il resto è uguale. E questo è uno dei tanti dati della genetica recente, che poi diventa anche paleogenetica, adesso vi dirò come, che ci dicono appunto quanto noi siamo prossimi a queste creature, cosa che avevano intuito i morfologi, i biologi, gli ecologi, anche se queste parole le usiamo noi oggi, all'epoca non le avrebbero neanche usate, che hanno affrontato il confronto tra l'uomo e i primati, e in particolare tra l'uomo e le cosiddette, non a caso, scimmie antropomorfe. Antropomorfe, cioè di morfologia simile alla nostra, e oggi sappiamo anche di genetica, praticamente sovrapponibile alla nostra, a parte quell'1,5% di differenza. Non sto qui a dilungarmi, ci sono 200 e passa anni di ricerche, i primi a capire qualcosa di questa affinità tra noi e questo particolare gruppo di scimmie, dico gruppo perché sono più specie, furono uomini della fine del 600 addirittura, poi nel 700, i tempi di Linneo, Buffon, e poi l'800 di Lamarck, QE, Darwin, Huxley, Heckel, chi più ne ha più ne metta, e poi tutto il 900 della genetica, fino ad arrivare proprio alla quantificazione in termini proprio di distanza genetica tra noi e qualunque altra forma di vita. I più simili a noi sono gli scimpanzei, un pizzico diversi sono i gorilla, un pochino più diversi sono gli orangutang, poi vengono tutte le altre 400 specie di scimmie, e poi gli altri mammiferi, i vertebrati, fino ad arrivare a delle possibili misure, diciamo di confronto tra noi la banana, o una mosca. E questo nel tempo, soprattutto a partire dagli anni 70, in realtà dal 65, è diventato anche una stima dei tempi dell'evoluzione. sapere che tra noi e gli scimpanzei, che sono questi due, perché sono due specie, c'è soltanto questo 1,5% di differenza, ha consentito di ipotizzare, e poi di verificare, dati alla mano, diciamo così, che la separazione evolutiva tra loro e noi è avvenuta intorno a 5 milioni di anni dal presente, questa M-Asta per milioni di anni fa. i gorilla, che sono leggermente diversi un po' prima, si sono separati dal ceppo comune, e gli orangutang, che è la scimmia rossa di Borno e Sumatra, cioè la forma asiatica, ancora prima, intorno a 15 milioni di anni fa circa. Quindi si è separata prima la forma asiatica, poi c'è stata una lunga storia africana in comune tra noi, i gorilla e gli scimpanzè, se ne sono andati per conto loro i gorilla, poi gli scimpanzè, e lì è cominciata la nostra storia. C'è questa specie di rametto qui, che è quella che comunemente chiamiamo evoluzione umana. In realtà, come dicevamo prima, per evoluzione umana noi possiamo intendere anche tutto ciò che è successo dal brodo primordiale a oggi. Cioè da quando si è formata la vita, inizia l'evoluzione umana, perché in qualche modo noi siamo uno dei tanti risultati di questo mirabile quadro naturale che è frutto dell'evoluzione. Ma la vera e propria evoluzione umana noi intendiamo propriamente da questo momento qui. Cioè dalla separazione evolutiva tra noi, che oggi viviamo, che ci chiamiamo Homo sapiens, e loro, che sono la forma vivente più prossima a noi geneticamente, cioè gli scimpanzè. Con linguaggio lineiano, Pan troglodites, Pan paniscus, le due specie del genere Pan, gli scimpanzè. E questo, forse vale la pena, un attimo, mi era venuto in mente, mi stava sfuggendo, no? Mi è tornato. vale la pena di dire che quei 200 mila anni di cui parlavamo prima, 200 mila anni, in Africa, l'origine della specie, Homo sapiens, è quassù. Quindi, tra il momento in cui compare Homo sapiens come specie e la separazione evolutiva con gli scimpanzè passano 5 milioni di anni. Che succede? L'evoluzione umana, appunto, che solitamente sui giornali, sui libri di scuola, ci viene rappresentata così. Sbagliato. Tutti sanno, no? Credo oggi, forse, che questa immagine è fuorviante. Non è stata una storia di una specie appresso all'altra. È stata questa roba qui. C'è un vero e proprio, e io qui volutamente ci ho messo troppa roba in questa slide, perché qua c'è nascosto, in questa slide, un corso di paleoantropologia di un anno. Un corso universitario di paleoantropologia di un anno è in fondo riunito in questa combinazione di immagini. È una storia, come vedete, da queste barrette tutte queste barrette qui che sono il firruge, diciamo così, di questo disegno. È una storia che è tutt'altro che sequenziale. Perché questa è la scala del tempo e vedete che ci sono molte specie tra loro contemporanee, perché ciascuna barretta è una specie estinta di generi diversi, australopitecus, homo, parantropus, sono quelle lettere che vedete all'inizio, no? P puntato, H puntato, A puntato. Bene, quindi, molte di loro tra loro contemporanee, quindi non può essere una sequenza, ma è un cespuglio, dicono molti oggi, no? io preferisco forse l'espressione albero frondoso, ma di metafore si può morire. E insieme a tutto questo io vi ho messo alcuni aspetti salienti, no? Di tutta questa storia complicatissima di cui abbiamo minimamente modo di parlarne questa sera, no? Qua ci vorrebbero, appunto, un corso universitario di paleoantropologia, forse, no? Quindi alcuni mesi di conversazioni simili a quella di oggi, prendetela questa come una specie di lezione introduttiva di quell'ipotetico corso universitario. Però vi ho messo a punto alcuni aspetti, per esempio quello geografico, no? Per lungo tempo la nostra storia, la storia dei nostri antenati è stata una storia esclusivamente africana, per questo isolato un'Africa lì sulla sinistra, ma poi a partire da circa due milioni di anni fa e provate a seguire due milioni lì nella scala del tempo, alcune forme incominciano a diffondersi fuori dall'Africa, quel primo auto of Africa di cui vi dicevo, no? Che è molto precedente all'auto of Africa di Homo Sapiens che vi torno a ricordare è circa duecento mila anni fa, quindi se questo è zero e questo è un milione, duecento è circa qui che è la base di questa barretta dove c'è scritto Homo Sapiens, quindi duecentomila, quel punto in Africa di duecentomila anni fa da cui siamo partiti è lassù. Prima c'è tutta una storia che è una storia ramificata, complessa, che si svolge in Africa, poi ci sono diffusioni fuori dall'Africa, solo in Eurasia, a parte di Flores e in tutto questo ci sono alcune caratteristiche che si vanno affermando. La prima di tutte è quella rappresentata lì a sinistra, cioè il bipedismo. Nulla di tutta questa storia ci sarebbe avuta se non ci fosse stato questo primo passo, proprio il caso di dirlo. Il primo passo dell'evoluzione umana è l'acquisizione della postura retta e della locomozione bipede. Non avremmo il grande cervello che abbiamo, non avremmo iniziato a usare le mani per produrre i manufatti del parolitico, non avremmo i denti che abbiamo se non fossimo prima diventati bipedi. Non avremmo avuto le possibilità anche ecologiche per affrontare delle novità, dei cambiamenti importanti che ci sono stati proprio lì in Africa orientale dopo circa tre milioni di anni fa, se non fossimo stati già prima bipedi. Il bipedismo accomuna tutte le barrette che avete alle mie spalle. Vuoi che essi siano dei veri e propri nostri antenati o semplicemente dei parenti estinti, ma tutti bipedi. E questo bipedismo comporta una serie di caratteristiche che adesso non vi sto a dire, ma insomma coinvolgono veramente tutto l'organismo. Quindi ci devono essere state delle pressioni selettive molto forti, perché questo bipedismo si stabilizzasse dove molti pensano in Savana, perché una narrativa dell'evoluzione umana più o meno risalente agli anni settanta vede appunto nell'apertura degli spazi di Savana questo adattamento alla locomozione bipede, cioè si scende dall'albero per muoversi sul terreno aperto. No, sappiamo ormai da tempo che il bipedismo si sviluppa in foresta. Ma adesso senza che andiamo a vedere perché e per come, ma è comunque qualcosa che per milioni di anni continua a essere in un contesto forestale, anche se magari è una foresta frammentata, questo sì, quindi come isole di foresta per cui bisogna attraversare talvolta degli spazi aperti, quindi gli spazi aperti c'entrano ma in maniera episodica. Tant'è vero che queste creature come si vede anche da questa specie di fumetto di parodia dell'antenato sono delle creature bipedi sì ma che mantengono delle caratteristiche da arrampicatore sugli alberi, cioè sono delle creature che mantengono quello che noi chiamiamo un bipedismo facoltativo, cioè che vuol dire erano bipedi ma al tempo stesso erano anche capaci di muoversi agilmente sugli alberi, quindi avevano delle lunghe dita, avevano delle lunghe braccia, insomma una serie di caratteristiche che sono diverse da quelle proprio nostre che vengono acquisite quando compare il genere omo da queste parti qui, proprio le caratteristiche più umane. tutto questo vi trova un riscontro nelle rappresentazioni che di tutte queste creature fanno i paleoartisti, non so se conoscete questi miei colleghi che combinano delle conoscenze di paleontologia con una capacità di realizzare artisticamente il corpo e il volto di questi nostri antenati. E lì vi ho messo tre foto ma se ne potrebbero mettere tante altre di queste realizzazioni dei paleoartisti che oggi sono estremamente raffinate guardate se questo ma anche questo non sembrano delle foto di creature vive in realtà sono dei modelli in silicone a grandezza naturale in cui questi paleoartisti hanno restituito quelle che riteniamo possono essere le caratteristiche del volto e del corpo di questi nostri parenti estinti e mettendoci tutta una componente di interpretazione inevitabilmente perché le ossa ci dicono come potrebbero essere i muscoli le parti molli possiamo ricostruire le fattezze ma altri aspetti non li possiamo ricostruire li dobbiamo ricostruire sulla base di un insieme di informazioni che vengono da altre conoscenze da questo punto di vista la paleoantropologia è una scienza di sintesi che mette insieme competenze diverse l'abbiamo visto prima per esempio quando parlavamo di paleoneurologie bene e quindi vedete come i primi bipedi vengono rappresentati solitamente come delle scimmie cioè le fattezze scimmiesche di questa ricostruzione sono evidenti anche se erabipede quella è una ricostruzione di Lucy per esempio e quanto diventano umane nel momento in cui si passa al genere Homo anche se non è certo Homo sapiens quello che viene rappresentato lì ma è un variante di una specie che chiamiamo Homo heidelbergensis questa roba qua quindi vicino a noi nel tempo e anche nella filogenesi ma diverso da noi al tempo stesso eppure viene rappresentato come molto umano da questo punto di vista io non sono sicuro che i paleoartisti stiano cogliendone il segno chissà che magari i capelli non gli cominciassero dall'arcata sopraorbitaria ipotesi sto dicendo così per dire che su queste cose dobbiamo aspettare che la scienza ancora ci dica qualcosa per esempio non so adesso parlando di capelli che cominciano dalle sopracciglia mi viene in mente che non sappiamo quando abbiamo perso i peli cioè parte dei peli il manto pilifero proprio di un primate noi non ce l'abbiamo più abbiamo degli strani peli distribuiti in alcuni punti del corpo tra l'altro uno diverso dall'altro come tipologia proprio di pelo ma i fossili questa storia non ce la raccontano non abbiamo pelifossili però abbiamo la possibilità di fare un lavoro simile a quello che vi ho fatto vedere prima cioè di studiare il presente in questo caso i peli nostri e dei nostri parenti più prossimi per esempio i scimpanzai e i gorilla e andare a ricucire le trame della storia che c'è dietro da cui tutto ciò è derivato e quindi non escludo che tra un po' di tempo sapremo meglio studiando la genetica di oggi con i suoi riflessi nel passato come potevano essere dal punto di vista pilifero alcuni dei nostri parenti estinti eccetera 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 su questa immagine non l'ho detto non si finirebbe mai di era solo per darvi un'idea della complessità non è questa storia qui che è una è peggio di una iper semplificazione è una banalizzazione è una è forviante di fatto anche se c'è un filo rosso effettivamente che lega questi personaggi qui ma è un filo rosso che dobbiamo ricucire all'interno di una storia assolutamente molto più ramificata e tutto questo lo facciamo grazie a una scienza che è moderna oggi la morfologia stessa scienza antichissima eppure oggi la morfologia ci consente delle cose che fino a 30 anni fa non si potevano fare oggi possiamo dare dei numeri alle forme che è una cosa che adesso detta così forse non si capisce bene però è qualcosa di assolutamente rivoluzionario cioè io ho un cranio come quello che ha in mano questo signore e posso studiarlo oggi in una maniera tale che 30 anni fa non era possibile 30 anni fa perché posso acquisirlo per esempio con una tomografia computerizzata o con una scansione laser o con altri sistemi e posso studiarlo con delle tecniche che si chiamano morfometria geometrica che oggi consentono di dare dei numeri alle forme e questo è assicuro qualcosa di formidabile ma ancora forse più formidabile è la nascita della paleogenetica paleogenomica che dobbiamo innanzitutto proprio a questo signore qui che forse qualcuno l'ha riconosciuto è Svante Pebo quello che ha vinto il Nobel per la medicina l'ottobre scorso e giustamente gli hanno dato il Nobel per la medicina perché si è inventato non da solo naturalmente ma è stato veramente il padre di una nuova scienza e questa nuova scienza si chiama appunto paleogenomica si era cominciato molti anni prima molti decenni prima studiando il DNA delle forme vive per capire qualcosa sul passato lui ha fatto il passo lui e i suoi collaboratori ha fatto il passo successivo che è quello di studiare direttamente il DNA delle forme estinte cioè ha capito diciamo che ha puntato sul cavallo vincente che era quello di tentare di estrarre il DNA dai fossili e per quanto i fossili siano pietra non lo sono ancora diventati del tutto e qualche elemento biologico ancora dentro di loro c'è tanto che si può estrarre il DNA a patto che stiamo parlando di forme relativamente recenti non si potrà mai presumo estrarre il DNA di Lucy troppo antica ma neanche il DNA di Homo floresiensis che è pure quello che citavo prima l'Hobbit perché è recentissimo ma viveva in posti talmente caldo umidi che il DNA se ne è andato da un pezzo il DNA si trova in forme relativamente recente e che hanno vissuto e soprattutto i cui fossili si sono stabilizzati in ambienti freschi se non freddi quindi vanno benissimo i Neandertal che sono vissuti in una glaciazione poche decine di milioni fa che è tanto ma poco come abbiamo già detto oppure questi famosi Denisova che non abbiamo il tempo adesso di parlarne ma sono stati scoperti proprio da Pabo dal premio nobile dai suoi quando hanno estratto il DNA da un pezzettino d'osso non si sapeva niente e si è capito che era di una specie mai vista prima mai capita prima adesso adesso incominciamo a capirla ma all'epoca non c'era proprio il nome Denisova Denisova come Neandertal è il nome di un sito che si trova sui monti Altai al confine tra la Siberia e la Mongolia quindi capite che ci fa un bel fresco e questi materiali si sono mantenuti per decine di millenni fino ad essere leggibili oggi addirittura di questi Denisova noi abbiamo l'intero genoma e ci avviciniamo ad averlo anche per i Neandertal quindi insomma abbiamo il nostro genoma quindi possiamo fare dei confronti tra noi e loro e scoprire che ci sono stati degli incroci tra specie e come qui è rappresentato no? o se volete forse no scusate mi stavo confondendo come qui è rappresentato cioè vedete queste frecce che indica dove c'è scritto gene flow che secondo me è un termine sbagliato in questo caso ma lasciamo perdere i genetisti a volte usano i termini un po' come gli pare questo è proprio ibridazione non giflo cioè sono dei incroci genetici tra individui di specie diverse è una questione intrigante perché ha messo un po' in discussione il concetto di specie addirittura negli ultimi anni cioè qualcuno dice ma allora non erano specie diverse o forse le specie non esistono in realtà le specie sono una nostra creazione nel senso che noi per mettere ordine alla natura l'inneo ha cominciato ha diviso tutto in scatolette chiamate specie però sono anche una realtà naturale e quasi sempre tra specie c'è un isolamento riproduttivo cioè è una specie quella realtà biologica che non è non è interfeconda con altre realtà biologiche simili ma la natura non segue tutte le regole che noi gli diamo le ha fatte lei le regole e le regole sono di una certa elasticità per cui la specie in realtà è qualcosa che si forma nel tempo e quando è passato tanto tempo è sì che si è creata una bella barriera genetica tanto che due specie non sono interfeconde ma se il tempo trascorso non è tantissimo questa barriera è un po' permeabile e quindi ci sono specie che si sono separate in tempi relativamente recenti che possono mantenere una capacità talvolta di ibridarsi e questo abbiamo scoperto che succede tante volte non solo tra l'asino e il cavallo che producono però un ibrido solitamente quasi sempre sterile ma anche tra molte altre creature forse non tutti sanno che in natura una tigra e un leone difficilmente si incontrano perché vivono in posti completamente diversi ma negli zoo si ibridano e si formano degli ibridi andatevi a cercare su internet tipo il ligre con la L che è l'ibrido adesso non mi ricordo se il maschio deve essere leone la femmina tigre o viceversa e che è fertile ed è bellissimo che noi siamo in grado di dire che Neanderthal Denisova e Homo sapiens erano specie diverse ma ancora con qualche permeabilità tale da produrre degli ibridi fertili che allevati in un gruppo di una di queste specie diventavano membri di quella specie lì e trasmettevano alle generazioni successive DNA ibrido per cui tutti noi in questa sala abbiamo granelli chiamiamoli così di DNA di Neanderthal e di Denisova perché tutti una delle tante scoperte di Svante Pebo e dei suoi e di altri laboratori tutti ereditiamo il risultato di queste ibridazioni avvenute ai primi contatti tra i sapiens che si andavano diffondendo e i Neanderthal che stavano in Europa nel vicino oriente i Denisova che si trovavano in Asia continentale e chissà che non ci sia stata qualcosina anche di riflesso perché i Denisova a loro volta si erano ibridati un pochetto con Homo erectus probabilmente così come noi ci eravamo ibridati con altre popolazioni africane che non erano esattamente della nostra specie quindi insomma è una storia complicata in cui le ibridazioni interspecifiche giocano un ruolo ma bisogna essere capaci di riconoscere qual è il confine tra un'imbridazione tra popolazioni della stessa specie e specie diverse e la storia poi potrebbe insomma continuare molto però non vi voglio tenere tutta la serata qui perché come vedete qui c'erano varie altre slide per esempio questa forse vale la pena un attimo di soffermarsi sul fatto che nel momento in cui poi i sapiens si diffondono geograficamente e popolano l'intero pianeta si differenziano tra loro per vari fattori che qui ho un po' molto semplificando elencato selezione naturale selezione sessuale deriva genica che è frutto di variazioni casuali ma ci sono state anche molte molte migrazioni e c'è stata anche una straordinaria crescita di popolazione quella attuale è pazzesca ma anche nel corso di epoche preistoriche c'è stato un graduale aumento della densità delle popolazioni soprattutto in certe aree e questo che cosa ha comportato ha comportato tante cose ma una di queste è che non è abbiamo capito finalmente dopo 200 anni che ci abbiamo sbattuto la testa come antropologi e non solo come antropologi abbiamo capito che non si può non si può parlare di razze nella nostra nella nostra specie non è una specie suddividibile in razza questo non nega la variabilità c'è variabilità siamo diversi ci sono dei poli di questa variabilità che sono rappresentati da queste immagini ma non è possibile dire dove finisca uno e cominci l'altro perché si fluisce gli uni negli altri e questo è ragionevole siamo tutti figli di quella stessa popolazione che io qui ho rappresentato come una specie di collo di una clessidra come dove tutte le eredità del passato vi ricordate quel punto in Africa 200.000 anni fa convergono in un punto e poi si comincia una nuova diversificazione ma il punto chiave è quello snodo in cui una singola popolazione ha dato origine poi a tutti noi 8 miliardi che siamo dove prevalgono le variazioni di tipo clinale c'è scritto lì cioè graduali piuttosto che le discontinuità razziali che poi purtroppo sono spesso diventate anche razziste sono due cose diverse ma in qualche modo purtroppo connesse niente a che fare con le razze dei cani insomma va bene io direi che per il momento ci possiamo fermare qui grazie per l'attenzione grazie grazie grazie